Ciao, sono Zuzzu. Ho 26 anni e sono l'autrice di CIS, un fumetto che è uscito per la prima volta in Italia nel 2019 e poi è stato tradotto in altre lingue, tra cui il tedesco, nel 2021. CIS è un fumetto che parla di amicizia, di coraggio e di adolescenza, quindi quel periodo di vita che colpisce tutti nella sua spaventosa irripetibilità. Non vedo l'ora di vederci al Festival La Fonte di Vienna. Ciao!